Ciao amici, sono io il vostro Rockwain e benvenuti alla mia ultima puntata del mio Rockwain Halloween Special 2020. Intanto chiedo scusa se questa ultima puntata è arrivata gravemente in ritardo, ma purtroppo per vari problemi tecnici non ho potuto fare prima. E quindi il mio special di Halloween non poteva concludersi se non nel più dolce dei modi. E naturalmente non può mancare, come sempre, ormai è diventata una tradizione, non può mancare ukanishu. Ukanishu, ovvero il cesto, la cesta, è appunto tutto questo. Come vedete, scusate se sentite rumori, come vedete questo è un cesto, cioè più che altro questa è una grande suppiera, un grande piatto cavo di porcellana, dove appunto vedete la mitica pupaccena, oppure bambola di zucchero, pupo di zucchero, che già in vari special di Halloween ho spiegato il suo significato. Naturalmente questi non sono dolci per la festività di Halloween, ma sono dolci tipici della mia terra, della mia Sicilia, della mia Palermo. Sono dolci tipici della mia città, Palermo. Queste sono appunto tutte frutte, è tutta frutta realizzata con la pasta di mandorla, o pasta reale, tutta decorata. Qua ci sono appunto banane, limone, un pomodoro, una pesca. Insomma, c'è veramente qua il diabete a mille, e poi appunto come ho detto c'è questa meravigliosa pupaccena, che è una statuetta cava, realizzata tutta in zucchero glassato e altri aromi aggiunti, quindi diabete al midollo, e poi qui vedete dei biscotti bianchi o al cioccolato, al cioccolato, tutti ricoperti con zucchero glassato a sua volta. Amici, questa è la mia pupaccena con questi tipici dolci, quindi questo è Ugannishu, Il cesto dolce di questo mio special di Halloween 2020, aspettate che ve lo mostro un po' più da vicino. Ecco qua, come vedete questa pupaccena di quest'anno raffigura un tipico paladino siciliano, un tipico soldato siciliano. E' ancora confezionata, vedete qua c'è il laccetto, è ancora chiusa. E tutti questi decori sono appunto tutti colori dolci, e qui appunto c'è la martorana, o dolci appunto realizzati con passareale, qua ci sono i biscotti che vi accennavo poc'anzi. Un bel capolavoro, eh? E per concludere al meglio questo mio special di Halloween, non poteva non finire con due mega e stupende action figure. Naturalmente action figure prodotte dalla McFarlane Toys per la linea DC Multiverse. E qui abbiamo il Batman che ride con le ali, davvero fantastico. Ali, se non sbaglio, prese dalla versione malvagia di Falcon. In italiano si chiama così, in inglese se non sbaglio si chiama Hawkman. Non vorrei sbagliare la pronuncia. E qui abbiamo il Batman, scusatemi, qui abbiamo Superman infetto, preso appunto dal fumetto Batman Superman infetto. Invece questa versione del Batman che ride con le ali di Hawkman è preso dal fumetto di Hawkman numero 18, e appartiene comunque alla linea, alla serie Metal, Dark Knights Metal. E quindi vediamole un po' più nel dettaglio, un po' più da vicino. Guardate ragazzi che meraviglia. Guardate, guardate che splendore. Iniziamo con il Batman che ride, guardate com'è davvero impressionante e terrorizzante questa variante. Questa seconda variante del Batman che ride. Davvero nettamente più spaventosa rispetto alla precedente. Un vero spettacolo. Un vero, un vero spettacolo. Le ali si possono pure aprire, allargare. Guardate qua ragazzi che cosa possiamo realizzare. Veramente fantastico. Naturalmente queste action figure presentano anche delle articolazioni. e passiamo adesso al Superman infetto. Guardate ragazzi qua che meraviglia che abbiamo. Davvero impressionante. Favoloso. Fantastico. Naturalmente queste action figure comprendono anche dei accessori che sono, in questo caso, nel caso dei Superman, comprende una basetta d'appoggio. Un altro paio di mani intercambiabili, che ne ha uno a pugno chiuso e queste due a palmo aperto. E poi una card da collezione, stessa cosa anche il Batman che ride. Il Batman che ride ha soltanto la card, il piedistallo, la card piedistallo e nient'altro. Ah sì, e i pezzi per comporre Merciless, se non erro. Un'altra versione malvagia di Batman. E quindi amici, sempre appartenente alla linea metal. E quindi amici, questo mio special di Halloween si conclude qui, si conclude con queste due meraviglie. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento scritto con un mi piace. Al prossimo video e come vi dico sempre, ma che cosa è?